Noi parliamo spesso del pronto soccorso e del fatto che il pronto soccorso è sempre aperto a tutti con le sue difficoltà. Oggi è venuta a trovarci la signora Natalina che ci deve raccontare una storia che secondo lei è un disservizio. Che è successo a suo marito? Dunque mio marito è entrato, si è portato in ospedale perché era sofferente a casa, per non disturbare l'ambulanza si è portato da noi. Alle otto e mezzo siamo entrati, l'hanno fatto entrare, i parenti non fanno entrare, siamo aspettati in sala. E aspetta, 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 alla fine alle due il mio figlio è entrato. Mentre usciva una persona è entrato, dicevo agli vedete il mio papà è vivo o morto. E siamo entrati, siamo entrati, non c'era nessuno, nessuno. C'era due infermiere ma con 30 persone nel display, diceva 30 persone. C'era gente che stava male, c'era gente. E mio marito, 82 anni, in una poltrona, 7 ore. Nessuno ci ha detto niente. Alle 4 la mattina una dottoressa è arrivata, segnalata da bere perché aveva sede. E ci ha detto che lo riteneva lì per accertamenti. Lei è andata a casa, suo figlio è rimasto lì? No, la mattina, il giorno del sabato alle 4 mi telefona la dottoressa e mi dice che il mio marito si deve portare in cardiologia perché ha un infarto in corso. È stato 10 ore lì, nessuno l'ha guardato, nessuno l'ha visto. Ma il problema è che non c'è personale, non c'è nessuno. Un dottore e due infermiere non possono sistemare questa marea di gente. Non c'è nessuno, non c'è nessuno.